Ah, questo esperimento casereccio sarebbe ciò che confuta l'esperienza di premorte di Pamela Reynolds, caro amico ateo, ti faccio anche un po' di pubblicità visto che me lo hai chiesto, ma stiamo messi bene. Ecco, queste sono le boiate che ci tocca sentire quando abbiamo a che fare con gli atei, i materialisti, quelli che vogliono negare a tutti i costi l'evidenza. Questo sonoro a 95 decibel non va ascoltato in un ambiente diffuso, paragonabile alle altre fonti sonore, no, va inserito dentro le orecchie. Sarebbe un esperimento di valore se tu ti distendessi su un lettino, ti iniettassi in via endovenosa un potente tranquillante, un sonnifero, ti mettessi dello scotch sugli occhi e attraverso degli auricolari sparassi in cuffia questa tempesta di click a 95 decibel. Vai a controllare quanti sono 95 decibel. Sono il suono di una potente fresatrice 90 decibel, quasi il suono di una discoteca 100 decibel, direttamente nei padiglioni auricolari. A questo punto devi chiedere a delle persone di parlare a distanza di tempo, quindi addormentati per bene, di squisire di qualcosa e di adoperare degli strumenti che tu non conosci e non hai mai visto. E quando ti risvegli devi riferire tutto visivamente e uditivamente per filo e per segno. Questo sarebbe un esperimento che potrebbe in qualche modo dimostrare o mettere in discussione la veridicità di questa out of body experience. Questi giochini che fai nella tua sala col pc non hanno nessun valore medico né clinico, non servono assolutamente a nulla, sono solo artifici retorici che tu stai adoperando per cercare di diminuire la portata di questa near death experience che resta a distanza di 30 anni assolutamente dirompente nei suoi elementi costitutivi basilari. Per quanti fossero ignari della vicenda, trovate il video completo sul mio canale YouTube. Comunque Pam Reynolds nel 1981, colpita da un aneurisma che andava rimosso, viene sottoposta ad un delicatissimo e pionieristico intervento chirurgico dal neurochirurgo Spetzler, un medico di altissimo livello che la sottopone a questo intervento consistente nell'induzione di uno stato di morte criogenica. In pratica la Reynolds arriva a un passo dalla vera morte, viene congelata, il suo battito si riduce fino a diventare assente. In arresto cardiaco si opera l'aneurisma dopo aver drenato via il sangue, aver svuotato il cervello e lo si può fare quindi in modo sicuro. In tutto questo intervento il suo stato di coscienza era tenuto sotto controllo. Il critico di questo caso, il dottor Worley, che cerca di minimizzare e ridurre la portata di questa NDE, sta cercando di affermare senza prove che il monitoraggio del suo stato di coscienza attraverso questa tempesta martellante di click, ha fatto cilecca, non ha funzionato. In pratica i medici non si erano accorti che la Reynolds non era in anestesia, in realtà la sua anestesia non ha funzionato, lei era perfettamente vigile e sentiva con queste orecchie. Ma se questo fosse vero, il segnale sonoro doveva dare dei picchi sul monitor del tronco encefalico, cosa che non c'è stata. Dunque, come stanno le cose? Il sonoro rumoroso non arriva e non produce effetto sul suo tronco encefalico, dunque lei è incosciente, ma Worley sta affermando allo stesso tempo, in modo contraddittorio, che no, lei in realtà è cosciente e può sentire le voci e può addirittura ricostruire con la sua fantasia, attraverso le vibrazioni sonore, un'immagine visuale in alta risoluzione di ciò che è realmente accaduto nella scena dell'operazione. Vi rendete conto da soli dell'inconsistenza puerile e assurda di queste critiche. Soltanto attraverso la tempesta di suoni, il trapano che le perfora il cervello, lei avrebbe a posteriori ricostruito la forma esatta dell'oggetto, indovinando che non era simile alla motosega di Non aprite quella porta, che non era simile a un trapano della Black & Decker di uso comune presente un po' in tutte le case, no, era un trapano a forma di spazzolino elettrico, wow. Ma poi ci sono oggetti che lei ha descritto che non producevano alcun suono, dunque come ha azzeccato la forma esatta della cassetta degli attrezzi del neurochirurgo, perché non ha descritto un comodino o un carrellino, no, va a descrivere per filo e per segno la cassetta contenente gli attrezzi in dettaglio. Signori, qui si sta raggiungendo il parossismo, tutto questo l'avrebbe decifrato attraverso le vibrazioni che impattano sul suo cranio, arrivando nel cervello e venendo poi ricostruite a posteriori. E non parliamo poi della conversazione avuta fra due chirurghi all'interno della sala operatoria con questo frastuono. Come poteva sentire una conversazione bisbigliata fra due medici in mezzo alle sue gambe, perché stavano operando con le sue arterie femorali? Come avrebbe potuto riportare parola per parola la loro conversazione senza ricordare tutte le fonti sonore distrattive? Cosa aveva il noise reductor nella testa? Ma andiamo in dettaglio. In questo articolo di revisione paritaria viene risposto al dottor Worley che ha tentato di spiegare l'esperienza della Reynolds come risultato di impressioni uditive combinate con una fantasia indotta dall'anestesia. Ecco, in questo articolo si sostiene che il tentativo di spiegazione di Worley semplicemente non è supportato dai fatti documentati del caso. Invito anche Worley ad accompagnarmi al Barro Neurological Institute per partecipare ad un test empirico nelle esatte condizioni uditive sperimentate dalla Reynolds. Come si vede, citare solo l'ipotesi del dottor Worley, che non è adeguata per spiegare completamente tutte le osservazioni della Reynolds, è abbastanza pretestuoso ed è cherry picking. Qui abbiamo un altro articolo interessante, risposta a potrebbe Pam Reynolds aver sentito, la traduzione piuttosto approssimativa è di Google, scritto da Stuart Hameroff che insieme a Roger Pernod si occupa di studiare la coscienza. La coscienza non locale è del tutto plausibile, come lo è la coscienza, e sostiene Hameroff insieme a Perros che sia un processo quantistico legato ai microtuboli all'interno dei neuroni. Questa è la famosa ipotesi che vuole che la nostra coscienza non sia un fenomeno materialistico ma sia legato ad un fenomeno quantistico, tutto da scoprire, un'ipotesi che ultimamente è tornata in auge. Hameroff fa notare che anche qualora lo stato di coscienza della Reynolds fosse rimasto intatto durante l'anestesia, ebbene ci sono dei fattori contrari a quest'idea e a favore della coscienza non locale. Il BEAR, il sistema uditivo del tronco encefalico che appunto ci consentirebbe di monitorare la profondità dell'anestesia per rilevare e prevenire possibili segnali di consapevolezza e Worley non ha presentato i risultati effettivi della BEAR, quindi l'ipotesi di Worley non è consistente, non è basata sui dati che noi abbiamo. Hameroff sottolinea che questo sistema, il BEAR, è ciò che noi adoperiamo e quindi va considerato per registrare le reazioni del cervello e dunque della coscienza agli stimoli sonori. Se non sono stati registrati reazioni a questi stimoli uditivi, i click inviati direttamente nelle orecchie, è veramente difficile come possano essere arrivati gli stimoli uditivi dei dialoghi intercorsi fra i medici alle orecchie e alla coscienza della paziente. Ameroff sostiene che i chirurghi che hanno effettuato l'intervento, gli anestesisti, che sono la creme della creme a livello mondiale, non possono aver sbagliato a rilevare i dati, aver usato in modo improprio la BEAR. Poi propone la sua spiegazione la coscienza quantistica non locale attraverso l'entanglement che non viene bloccato da oggetti materiali. Dunque ci sono altre spiegazioni come appunto la coscienza non locale quantistica, secondo Ameroff e Penrose, che potrebbe rendere conto di questa articolatissima esperienza. Ma ascoltiamo cosa dicono Sabom e soprattutto il dottor Spetzler, così sentiamo dalla viva voce del chirurgo che ha operato la Reynolds cosa è accaduto. Qui vediamo Sabom che dice Nel corso del mio studio sono andato a intervistare il dottor Spetzler e ho guardato il suo rapporto operatorio e ho scoperto ciò che lei vedeva, vedeva, sottolinemo il verbo. L'esperienza fuori dal corpo corrispondeva in modo molto accurato a ciò che era realmente accaduto. Lei guardava una siega per ossa che le apriva il cranio. Non avevo idea di che aspetto avesse questa cosa. Lei lo descriveva come uno spazzolino elettrico che pensavo fosse ridicolo. Ho dovuto mandare una foto di questa sega per confermare, quindi ha dovuto prendere la sega e il sega ossa per confermare quello che ha detto, una descrizione così accurata da essere sbalorditiva. Ha visto la foto ed era veramente simile a uno spazzolino elettrico. Ecco il dottor Spetzler. Non credo che le osservazioni che ha fatto fossero basate su ciò che ha vissuto quando è entrata in sala operatoria. Semplicemente non erano a sua disposizione il trapano, gli attrezzi e così via. Sono tutte cose coperte, non visibili. Erano all'interno delle loro confezioni. Inizi, non inizia ad aprirle finché il paziente non è completamente addormentato in modo da mantenere la sterilità. Ha registrato la conversazione fra il dottor Spetzler e i chirurghi cardiovascolari che le stavano tagliando l'arteria femorale per agganciarla alla macchina cuore-polmone, dice Sabom. Quando il cardiochirurgo le incise l'arteria scoprì che le sue vene, le sue arterie erano troppo piccole e dovette passare dall'altro lato. Ci fu una conversazione fra i medici in quel momento e Pam ricorda accuratamente di aver sentito quella conversazione. Qui ha di nuovo Spetzler che parla in quella fase dell'operazione e nessuno può osservare in quello stato. Trovo inconcepibile che i tuoi normali sensi, come l'udito, per non parlare del fatto che avesse dei moduli che emettevano dei click, era impossibile che i suoi normali condotti uditivi potessero sentire alcunché. C'era una sorta di percezione extrasensoriale o extracorporea, dice Michael Sabom, che le permetteva in quel momento di sentire con precisione e vedere con precisione ciò che stava accadendo in sala operatoria. Quindi Sabom e Spetzler sono convinti del fenomeno. E prosegue Sabom. Questa è una classica esperienza di premorte che si verifica in condizioni mediche estremamente monitorate, in cui ogni segno vitale conosciuto e praticamente ogni segno clinico di vita e di morte veniva monitorato in quel momento ed è questo che rende il suo caso così straordinario e così prezioso per noi. Spetzler che parla non ha una spiegazione per questo. Non so come sia possibile che ciò accada considerando lo stato fisiologico in cui si trovava nello stesso momento in cui ci sono tante cose, ho visto, che non riesco a spiegare, non voglio essere così arrogante da poter dire che non è possibile che ciò accada. Il caso di Pam dimostra che in qualche modo è riuscita a mantenere una percezione e una memoria coerenti anche se clinicamente morta. Ciò suggerisce la possibilità di una sorta di separazione mente-cervello. Quando il cuore è fermo il cervello non funziona davvero, non può esserci nella loro memoria, non può esserci un ricordo di queste esperienze che si verificano in quel momento, perché i circuiti della memoria non funzionano. Quindi quando la persona che ha vissuto l'esperienza di premorte parla di questi ricordi, di essere uscita dal proprio corpo e di aver visto il processo di rianimazione, è difficile per la nostra attuale neuroscienza capire come ciò potrebbe accadere. Ah, ricordo anche che Hotel California, che lei poi ha riesumato attraverso il suo ricordo lucido, veniva suonata non nel momento dell'anestesia, ma nel momento in cui l'intervento era ormai finito e lei si trovava non solo in sedazione profonda, ma in morte criogenica, in arresto cardiaco. A quel punto non si può più addurre la scusa della lucidità in anestesia. Dunque, questi elementi sono troppi per essere giustificati con un'ipotesi così farraginosa. E quello che mi stupisce è il modo in cui gli atei, chiusi nel loro pregiudizio, non vedono che ci sono troppi dettagli da spiegare. E l'ipotesi esplicativa non è assolutamente sufficiente. Ma questo è facilmente motivato dal bias, dal pregiudizio cognitivo degli atei materialisti che non possono accettare qualcosa come la presenza di un io cosciente che prescinde dal cervello materiale. Eppure è proprio ciò che queste NDE sembrano insistentemente suggerirci. Ma questa è solo una delle tantissime NDE ben documentate. Andate a guardare la playlist qui su TikTok, NDE, troverete molti casi ben documentati o ancora meglio venite sul mio canale YouTube playlist NDE con versione costante e rimanete su questo canale perché a breve pubblicherò un altro video dirompente.